benvenuti o bentornati sul canale sono Enrico Alzia e oggi come dal titolo vi presento questo un po' atteso un coltellone davvero bello che mi ha mandato Paolo di Beppacco il 511 pacemaker andiamo a vederlo insieme perché è davvero pazzesco sul retro poi abbiamo anche la sua scheda tecnica eccolo qua allora ragazzi non entro nemmeno nell'inquadratura guardate qua che è proprio di bestia ok Campenfield Knife pacemaker Sirius CFK7 non dico proprio in inglese così almeno comunque sarebbe CFK7 ok facciamo tanto gli splendidi tanto di inglese si sa poi comunque faivi lave la scatola è questa c'è la figura del coltello molto bella molto carina lo andiamo a vedere l'avevate già visto sui social ve l'ho fatto vedere insieme anche agli ante che mi erano arrivati ecco come vi arriva il coltello il pacemaker ragazzi è una bestia enorme bellissimo sotto è messo chiuso così con i suoi attacchi rapidi adesso lo andremo a tirare fuori e vedremo tutto di lui allora eccoci qua bimbi veramente bello a me piace molto anche come linea come materiali che adesso andremo a vedere il fodero molto molto particolare con questi attacchi rapidi che ora andremo a vedere e partiremo proprio dal fodero così inizieremo a capire come la 511 ha studiato questo questo porto per questa lama allora eccolo qua ragazzi abbiamo questo fodero che è in nylon in nylon tan ok con molti forellini aperti anche per legarci cordini e fare magari un cosciale legarselo alla gamba eccetera abbiamo questa fettucina di gomma bellissima che va a chiudere il coltello ok quando è inserito molto tenace come potete vedere campeggia la scritta 5.11 511 ok davanti e anche sul retro eccola qua la cosa forte di questo fodero veramente fatto bene mi piace c'è anche lo scolo per le acque piovane eccolo qua guardate non manca nulla è questi attacchi rapidi come potete vedere qua ci sono dei bottoncini eccoli qui che tirandoli praticamente si sgancia facciamo passare la cintura e poi li rimettiamo dentro eccoli qua cioè veramente veramente esagerato ora poi vi dirò come sta in cintura eccetera e comunque mi piace mi piace molto veramente veramente bello adesso io passerei anche al coltello così lo vediamo nella sua bellezza allora ragazzi eccolo qua bella bestia di 582 grammi 582 grammi guardate che proprio dal trezzo che è questo qua c'è il video di paolo di beppacco che ha fatto una presentazione a dir poco perfetta io non sono sicuro di poterlo farlo uguale ma veramente avvincente comunque ragazzi le misure sono queste sono una lunghezza totale di 33 centimetri la lama è di 16 e taglio utile 15 e mezzo taglio utile 15 e mezzo ok abbiamo una copertura nera io ho cercato di capire cosa fosse ma non non sono riuscito a capire con che materiale abbiamo fatto questa copertura nera ovviamente costruzione full tanghe con codolo esposto la manicatura abbiamo l'frn il nailo con fibra di vetro ovviamente con tre torx smontabile ok abbiamo due finger guardate belli ora poi le andremo a vedere per per delle prese avanzata una media una poi proprio avanzata con lo stacco del jimping anche per le varie prese e abbiamo sulla lama questi due fresature questi due fuori per alleggerire il coltello eccetera ok il suo progettista è justin jingrich ok un ex dei reparti speciali che ha fatto che ha collaborato e ha fatto per la file level questo bellissimo coltello da 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 campo ma tattico come potete vedere molto tattico sul piatto sinistro campeggia la file level nel logo file level dall'altra gti che sarebbe gingrich tattico innovation ok eccolo qua poi riportato ovviamente anche taiwan dove viene fatto e l'acciaio con cui è stato realizzato allora proprio dell'acciaio io ho fatto un po una ricerca perché non lo conoscevo è un acciaio prioritario insomma cinese si parla dell scm 435 un acciaio al carbonio ok l'acciaio usato per la bulloneria prigionieri ad alta resistenza barre filettate eccetera un acciaio da tempra al cromo morbideno di media temprabilità quindi questo qui riportano sulle schede 58 60 hrc un acciaio ad alta resistenza per uso generale con livello di resistenza medio e buone proprietà di impatto ok poi vedremo ovviamente come andrà lavorandoci ovviamente la punta una drop point inoltre abbiamo quasi 7 mm di spessore ragazzi guardate qua che popò di bestia e adesso lo vediamo come sta nel fodero e prova di taglio allora ragazzi tornati tra noi eccolo qui come entra nel fodero allora guardate bene questa fettucina sta allarga però quando io metto nel fodero il coltello guardate come sta lontana dalla lama vedete guardate non c'è rischio che possiamo tagliare la fettucina questa è una cosa che avete visto ovviamente non casca guardate che bellezza lo chiudiamo così per una maggiore sicurezza molto tenace il bottone ok e poi lo apriamo e con una pressione col pollice si fa l'estrazione coltello veramente bello come diceva anche paolo il primo jimping col pollice sulla prima presa avanzata poi l'altro jimping sull'altro finger choi eccolo qua davvero bello vedremo come va questo questo coltello io me lo porto tre giorni dietro perché ora io fine settimana venerdì salato e domenica 16 a 17 18 ho un campo e quindi lo proverò per tre giorni lo testerò per tre giorni proprio apposta per vedere come va quanto perde eccetera 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 veramente veramente bello una cosa che mi sono scordato che sulla manicatura c'è anche lo stemma qua della file 11 ovviamente il foro per il cordino ok per il laccetto non abbiamo qui alla guardia inferiore altri forellini quindi non si può effettuare una dragona però vabbè come ce l'ha mandato la file 11 arriva così vediamo cioè ragazzi un rasoio mamma mia bravi viate questa è la presentazione lo vedremo presto cercherò di come sono a un corso e un bivacco ora non vi posto a di tante cose comunque vedremo vedrete all'opera perché in questi tre giorni lo userò parecchio ok per ora è tutto e ora rimando poi alle prove sul campo bene bimbi come promesso siamo a testare questo coltello di paolo il file 11 pacemaker eccolo qua e come da titolo avete visto scherzoso bivacco con un orso e un lupo l'orso ovviamente simone eccolo qui grande fratellone grande amico via di qua e orso da lunghi coltelli iscrivetevi al canale cazzo subito immediatamente salutiamo anche trifelli trifellone dario ok e perché sapete che lui testa solo coltelli di trifelli ok ormai culo e camicia culo e camicia culo e camicia faccio la camicia bimbi noi partiamo e poi facciamo vedere questo bivacco questi tre giorni di come va questo coltello saluto a tutti per ora ciao 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 baby serve un mattello quando questo ciocchettone vi si parte subito da shopping senza guanti vediamo come va un po scivola un po scivoloso se si continua e scivoloso ma però lo mangia al legno lo mangia allora sono messo quanti vediamo se scivola meno non ho messo il cordino perché lo voglio testare così vediamo un attimo ecco ovviamente voi non lo sentite questo è fat wood pino date bello niente si è un po scivoloso è un po scivoloso è un po il codolo a lungo andare qua da un po noia però con un cordino magari lo teniamo più fermo batoning si inizia con qualcosa di piccolo lo sapete vediamo come va questo file beh questi video i ragazzi nodini dentro commenta è una mazzata ragazzi una mazzata e li spacca perché 7 mm si fanno sentire si fanno sentire ragazzi non c'è nulla fa poi ragazzi oggi 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 c'ho un telecamera vendo d'eccellenza ragazzi ciò orso mi sembra essere sul canale guarda ragazzi clamorosi clamorosi che amici c'ho guarda ragazzi vado va allora alziamo un po il livello vediamo un po qua non c'ho ai ciocconi grossi che c'ho nell'altro campo è ho trovato qualcosa ma comunque il coltello per ora non ha problemi ci siamo via roba spettavolo a spettavolo dello spettavolo fibroso guardatelo fibrosa bestia no io dai vedi con una botta li apri questi vedi con una botta ci siamo ci siamo diamo questo non è leccio questo non è lecce tensione ho fatto malandito guardate vid clamoroso questo è il leccio ho trovato questo diametro qui eccolo qui lecce si vede verdastro lo vedete no quest'ora vediamo cosa succede vediamo su il leccio l'aperto a ai forti e forti e forti bimbi faccio tirare due colpi a orso che ci fai vedere ma vediamo un po di splitting che la prova non è se il coltello taglia se ci prendo io vediamo vediamo di non farci male spettacolo perdonami dario pormi vita loca aspetta che prendo un po il rumore dei dindarolo che sentite è perché qua c'è non è vero ok ok è dannata questo vado eh posso sicuro botta secca vado eh ok e niente facciamo uno split split insomma un taglionetto per questo c'è sto dente qua che mi si leva ok forse un po marcio ma oddio vada ancora ancora regge la maia la vecchiaia pronti bocchio eh qua mi sbatto la mano porca miseria va altra roba grazie orso ok grazie l'ho fatto solo per te ricordati grazie amore bene aglionetto con il martello di ok buona a questo punto si fa inglese o vediamo come sta nell'inglese con il primo finger dove la mia mano si va a sposare bene ecchici allora inglese si fa però ha durato il branco di fatica c'è questa lama lunga che è una storia che fa questo lavoro che questi lavori vi fateli con un cortello più piccolo secondo me perché questo li fa cioè se ci avete solo questo la punta la fa però però dei bimbi è una storia è una storia perché è peso durante fatica si controlla il giusto però vabbè ma facciamoli la tacca e vediamo non darci piano andateci piano quando fate le tacche perché lui distrugge tutto ha cioè una per queste robe vi lui ha le fa però occhio perché sbriciola tutto lui ha un cento e storie vedete vedete spacca tutto spacca ogni ossa è peso e peso e peso ragazzi e peso ne prendo un altro però lo faccio normale prova a fare la tacca normale non è difficoltoso lavorarci nel fino perché lo vedete cioè c'è questa megalama che purtroppo grossa anche se penetra qua fate bra un branco di fatia ci sarebbe da ripulirlo tutto li fa si lavori però dura branco di fatia e ragazzi non è il suo non è il suo si dura fatia comunque li fa dai allora anche con la presa avanzata sul secondo finger cioè come potete vedere c'è ci si lavora sì i due pollici che spingono però ragazzi certo vedete ha una potenza tale che si controlla male su lavori di fino ovviamente dove c'è da tagliare scavare eccetera cioè poi ci si arriva a pulire tutto però si dura fatica anche con la presa avanzata diciamo non è il suo questo ecco ragazzi per essere il cortellone o non è che che li fa brutti si gestisce in maniera e pesa però guardate va li fa li fa allora abbiamo fatto i fighter vediamo un attimino con le scintille impossibile che l'exo tax non faccia scintille però questo è grosso niente si sciupa la dorsale non lo fate perché vi sciupa del coltello e quindi perché tanto non arrivate a niente ok allora vediamo un attimino se perché dal codolo è scomodissimo perché detti ti sguinzaglia tutta la lama sono poche queste per accendere un esca sotto il finger nulla niente con questo signori non ci accendete il fuoco ve lo dico subito peccato allora non l'ho toccato c'è orso presente e non lo toccherò nemmeno domani che è sabato e nemmeno domenica non è toccato con le mani non lo tocca no non tocca il filo non si tocca il filo non lo stroppo non faccio niente nulla è un po sporco vediamo abbiamo lavorato un po poi ovviamente oggi faremo qualche taglio di shibari e eccetera e vedremo poi quanto domenica ha perso ok vediamolo ci siamo uno due tre via ha perso perso qui e qua strappa vedete dove si ferma si ferma strappa primo pezzo qui ovviamente se lavorato poco va meglio se ripulito il filo no strappa via strappa bimbi e io lo lascio così domenica vedremo come e che punto è pedro di la verità che facevi al fiume mia sposa stava al fiume a lavare con gringo l'aggredì la voleva io non gli ho fatto niente gli ho dato solo qualche coltellata poi è caduto la testa nel cadere vediamo tutti questi nodini ho preso uno verde apposta ok allora questa è la grande padella chiesa del garzia della loggia qui abbiamo chef orzo altra roba che ci fai che ci prepari risottino risottino alla zucca alla zucca dopo ci fai vedere come taglia la zucca vai c'è la parte del culo ecco ci ha preso per il culo sul filo sbombola tutto questo ortello però ok 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 e penso sul taglio ok 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 questo distrugge dice il lupo dice ma questa è roba mia andatevi distrutto Henry ma stai registrando il video? si ti ha fastidio se parlo? no che bastardi ragazzi ma come sono bastardi non dici è mio eh è mio eh si mette in padella e vai 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 in polla Ali ti devo tagliare il porro da metterci? no dopo prima si cuoce poi se no si brucia tutto e vai col pollo padella non vedi nulla se no allora ragazzi il riso è cotto questa non la possiamo mettere vai ragazzi il riso è cotto vediamo un po allora così fa cacare però allora Henry allora Henry il riso è pronto mi devi dare un parere ma non lo devi dire che è buono devi far finta che non l'hai ancora assaggiato non l'ho ancora assaggiato allora tu che non hai ancora assaggiato il riso lo sappiamo forse non ho ancora assaggiato il riso hai visto? mi ho dato una gavetta così mmmm com'è? è buono davvero com'è Albe? approvo quanta roba Quebec com'è il riso? non riesco mai a chiamarlo lui? Caleb 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 vabbè ha provato? buonissima la zucca si sente buono il porro ciao sono Caleb di Pecpacco beh fra un po' si tocca di buono buon appetito a tutti mmmm guarda lì io sfrutto questa costruzione potete vedere me la sfrutto guardaci molto il materassino e il saccappello e me ne do il mal aperto intanto non piove allora materassino e il storino sotto messi poi vi parlerò anche di lui il carintia estivo eh che arriva a estremo a meno 7.9 e vi farò vedere poi cosa ho usato sta bene al fianco l'unica cosa se avete una cintura fine guardate perché le fettuccine sono larghe quindi ci vuole un cinturone me li diam militari grossi boiate 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 secondo giorno montiamo il tarpe e via ma pulizia rami ragazzi che grazie grazie A presto. No, non lo paghi tanto. No, a voglia. A fare, cioè, va bene per quanto lo paghi. 200 per figlio, 4 metri, poi c'aveva anche il cosciale, qui che ho tolto, c'è un posto così. Questo è 80CW2, doveva essere in 10A, poi non ce l'aveva, non l'aveva trovato. Bellissimo, o anche come Chakram di Tassina. Basta, basta. Ragazzi, secondo me è troppo asciutto. No, buttate, buttate anche... Bene, bimbi, esco dal bosco adesso, dopo tre giorni, e vi dirò tutto di questo 5-Eleven. Andiamo a casa e vedremo cos'è successo. Eccoci, bimbi, tornati a casa, eccolo qua. Ancora sporco, come potete vedere, io non l'ho toccato, lo sapete. Tre giorni è stato un po' un test diverso dagli altri. Ho sfruttato questo bivacco di tre giorni, proprio apposta per testarlo, tenendolo su di suo sporco, alle intemperie, facendolo provare all'orso dei lunghi coltelli, a altre persone. È stato veramente messo sotto torchio, e quindi tre giorni, io posso dire che è veramente un coltello che taglia bene, da spacco, soprattutto da spacco, e ora vediamo quanto filo ha perso, perché io non l'ho più toccato, ok? Non ho stroppato niente, nulla, vediamo quanto ha perso. È perso, eh? Ma poi nemmeno poi più di tanto, eh? Vedete? Qui si intacca. Allora, dietro con me mi sono fatto della Lux Metal, lo sapete. Io porto con me la celeste, che sarebbe la fine, eh? Il compound fine. E poi mi porto l'ultra fine, che è quella verde. perché mi trovo bene con queste due. Vediamo cosa è successo solo stroppandolo, è sempre qui su, o è il coltello, lo potete vedere. Solo stroppandolo, vediamo cosa è successo. ha ripulito ancora un pochino, eh? Però, ragazzi, cioè, ancora va ripulito ancora un pochino. ha un po' qua. Diamo un'altra pulita. Ancora qualche stroppata, abbiamo questo risultato qua. Eh, ragazzi, è una lama grossa e... niente. devo dire la verità che poi l'ho ristroppato solo con il fine, quello celeste. Non gli ho dato la stroppata con l'ultra fine, solo col celeste. Altre 12 botte di qui, 12 botte di là. Quindi, cioè, ragazzi, il coltello che va stra bene, ma va stra bene alla grande. Filo che si, si, praticamente, si comporta bene e lo riaffilate, cioè, in tre secondi, so che sono già stati venduti un paio di pezzi, mi fa piacere, prima che uscisse questo video. Quindi, sono contento, perché è un prezzo eccezionale. Ci sarà di meglio, ci sarà anche tanto, tanto di peggio. A chi piace le putrelle da 7 mm per spaccare, come accetta, ragazzi, questo qui, abbinato a un coltellino, a un neck, o a un coltellino da 8-9 cm, siete a posto. Cordino, perché scivola un po', ma davvero un bel coltello. Mi è piaciuto tantissimo. Quindi ringrazio Paolo Di Beppacco. Qui si chiude la recensione del 5-11 Pacemaker. Saluto a tutti, dai ragazzi. Sì, Grazie a tutti.